Saluto subito i lettori di Piego di Libri, complimenti per la vostra attività frenetica, mi dicono. Allora, io, va bene, sono un lettore, come saprete, anche perché, insomma, ho dei trascorsi in televisione, tipo per un pugno di libri, e mi chiedono di dire per quale motivo bisogna leggere. Io mi chiedo per quale motivo non bisognerebbe leggere, perché i motivi per leggere ne stanno veramente migliaia, e quindi, insomma, chi mi rivolgo a fare è voi che già leggete. Quindi, insomma, siamo un bel circolo. Quindi un saluto, complimenti ancora, io sono qui per presentare il libro di Gianni Mura, tra poco e così, lo butto là, ce l'ho qua.